Auto fuoristrada nella serata di martedì 28 settembre intorno alle 22 in località Vauda di San Benigno Canavese. Una Mazda MX-5 fuori controllo dopo aver carambolato è uscita di strada finendo il soccorso in mezzo al campo che costeggia la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Volpiano e i carabinieri 118. Il conducente dopo le prime cure è stato trasportato all'ospedale di Chivasso, la dinamica al vaglio dei carabinieri. Grazie per la visione!